Ehi ragazzi, Barsano? Sei tu? Ragazzi rispondete? Sì, sì, sì. Ragazzi rispondete? Ma i paesi, ragazzi viaggiano ragazzi. Se rispondiamo? Sì, sì. Barsano? Sì. Sei tu? Sì. Fatti vedere? Sei tu? Fatti vedere? Fatti vedere? Mi chiamo, fatti vedere. Ciao. Fatti vedere? Fatti vedere? Sei tu? Sì. Sei tu? Sì. Fatti vedere? Sì, ragazzi, ragazzi. Barsano? Sì. Questo è da Oscar. Fatti vedere? Fatti vedere? Sì, ragazzi, ragazzi. Barsano? Sì. Sei tu? Cazzo, questo è da Oscar. Allora. Barsano, rispondete? Sì, ragazzi. Barsano? Sì. Sei tu? No. Barsano? No, no, no. Sei tu? No. Allora, chiamo qualcuno, chiamo la vicenda. A chi chiamo? No, la CIA. Rispondete Bassano? Presente. Chiamo qualcuno. Bassano? Sì. Bassano? Sì. Bassano? Bassano, ragazzo. Bassano. 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 Sì? Cassano. Cassano. Bassano? Presente. Sei tu? No. Chiamo l'FBI. Chiamo. Non lo dite, lo dite, lo dite. Non faremi piace, lo sentite. Ragazzi, sei caricato, ragazzi. Ragazzi, sei caricato. Calma, calma. Ragazzi, rispondete. No. Vai, vai, prof. Chiama. Chiama, chiama. Rispondete. E chiamalo. Bassano? Presente. Sei tu? Sì. Sei tu? Sì. Poi Bassano? Bassano? Sì. Finta, si gira. Sì, ragazzi. Solo il ragazzo e la ragazza. Stavate seduti. Tanto sogni, tanto sogni. Tanto sogni. Stavate un po' bello. Stavate sbagliato. Sì. Allora, ragazzi, basta che rispondete. Sì. 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 Oh, sediti. Siediti, tettona. Vai, prof. Oh, voglio una tassa sì. Vai, 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 vai. Tassano? Sì. Sei tu, Tassano? Sì, stai tu. Sì, 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 tassano. Ma non mi ricordi. Si, non ci muozi. Sì. No, non ci muozi. No. Ma io stai facendo davvero male poco. Ma giaccia di pute? No. No. Non ci muozi. Non ci muozi. Sì. 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 Sì, sarà io. No. No. Oh, no. No. Sì. No. No. rispondete sono il ragazzo o ragazza rispondete sono il ragazzo o ragazza oh aiut è cazzo questo video forza dio passiano buona viva si sono io passiano e rispondi ma non sono la stella allora togliete fuori rispondete rispondete sono tre quattro minuti che ti risponde quattro quattro ton pazza ma una volta ma una volta si si no in coro vogliamo rispondere si 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 ma ho hai quattro minuti e mezz ma sano si Anzala ferita!